La famiglia Civitillo fa parlare di sé non solo e non tanto per le vicende della P2P di Pozzilli quanto per la nuova intrapresa balzata agli onori della cronaca nazionale, le immagini, quelle del sit-in degli operai di Industria Italiana Autobus, l'azienda con sedi a Bologna e a Flumeri in provincia di Avellino, recentemente rilevata dalla serie di Civitillo, realtà leader nel settore del riciclo della plastica, impegnata nella riconversione dello stabilimento Unilever di Pozzilli e che ora entra nel settore dell'automotive, uno degli asset industriali strategici per il paese. Altro che riconversione, come in Molise, questa è diversificazione spinta sull'altare della crescita e dello sviluppo industriale. Ma veniamo agli operai davanti alla sede del Mimit, vengono da Bologna, sono lì per dire no al trasferimento nella sede di Avellino, di fatto si tratterebbe di un licenziamento, sostengono i sindacati e con loro i 77 addetti. L'incontro romano alla presenza del ministro Urso, a quanto pare, ha assortito buoni frutti. I Civitillo rilanciano, trasferimento bloccato e l'annuncio di nuove assunzioni, addirittura ben 180 ad Avellino e 60 a Bologna. Lo stabilimento Emiliano diventerà un centro di ricerca, ricerca e sviluppo, la reminiscenza è quasi involontaria, alla buccia di banana su cui è scivolato il progetto P2P. Torniamo agli autobus. L'espansione sarà possibile grazie all'ingresso nell'asset societario di un importante investitore cinese, non ancora reso pubblico. Al momento siamo nella fase delle idee e dei progetti, un po' come accade a Pozzilli.